Erano stati annunciati a fine maggio, ma solo ieri sono stati installati gli autovelox sulla strada di grande comunicazione Ionio-Tirreno. Si tratta di sei postazioni, di cui due collocati in direzione Ionio subito dopo l'uscita di Mammola, due posizionati in direzione Tirrenico nei pressi della galleria che si trova nelle immediate vicinanze del luogo in cui si è verificato l'incidente che è costato la vita al giovane di Polistana Francesco Zerbi e uno nei pressi del primo svincolo di Cinque Frondi. A dare l'annuncio con estrema soddisfazione dall'avvio dei lavori sono stati ieri mattina proprio i membri dell'Associazione Gli Amici del Lupo che sui social network hanno scritto «Finalmente ci siamo, sarà la prima estate dopo 26 anni in cui ci saranno maggiori controlli sulla strada di grande comunicazione 682, un grazie di cuore a coloro che hanno sposato la nostra battaglia. I provvedimenti per scoraggiare gli amanti della velocità non sono finiti, sembrerebbe infatti esserci in campo anche un'iniziativa dell'amministrazione comunale di rinascita per Cinque Frondi». Ad annunciarlo è stato l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Longo che ha manifestato l'impegno della classe amministrativa volta a provare come comune di Cinque Frondi di concerto con Anas e Polizia Stradale ad installare e gestire un nuovo autovelox che si andrebbe ad aggiungere sei posizionati mattinata. Il provvedimento però ormai non era più rinviabile alla luce degli spiacevoli incidenti che hanno tolto la vita al calciatore Francesco Zerbi, ai giovani dilocri di Siderno e a tutte le altre vittime che in un giorno sfortunato hanno attraversato quella che ormai è definita strada della morte. Conclude così il suo post l'assessore ai lavori pubblici Giuseppe Longo. La messa in sicurezza così come il controllo della velocità sulla strada di grande comunicazione Ionio Tirreno era da tempo stata richiesta da più realtà a diversi livelli. Anche il presidente della provincia Giuseppe Raffa aveva sollecitato a prendere provvedimenti urgenti. A Cinque Frondi era anche stato organizzato in merito un civico consesso in seduta straordinaria aperta a cui avevano partecipato molti amministratori provinciali e della piana di Gioia Tauro i quali avevano redatto un documento in cui si chiedeva di installare un sistema di controllo della velocità istantanea e media, installare pannelli fotoassorbenti e istituire una stazione di controllo permanente. Oggi è un primo passo.